È stato presentato sabato 25 febbraio presso una sala del Consiglio Gremita del municipio di Filine Salute a Colori, un evento che si svolgerà domenica 2 aprile in piazza Marsiglio Ficina Filine organizzato dal Calcete Valdarno e Forentino con il patrocinio dell'azienda Uslo Toscana Centro del comune di Filine Incisa, Banca di Cambiano e Rotari Filine Incisa. L'idea guida è quella di centrare la giornata sulla prevenzione, l'educazione alla salute e i corretti stili di vita. Tutto ciò avverrà appunto in piazza Marsiglio Ficino tramite la presenza gratuita di medici, infermieri, farmacisti, tecnici e operatori sanitari di varie professionalità e competenze sia del settore privato che pubblico a disposizione degli utenti per controlli specialistici, consigli e informazioni. I cittadini avranno modo di poter fruire in maniera assolutamente gratuita di consulenze e prestazione di informazioni riguardanti la loro salute e l'importanza di attuare comportamenti per un benessere psicologico e fisico globale. Da oggi troverete anche online il nostro sito internet www.salutacolori.it dove potrete trovare in continuo aggiornamento ed evoluzione tutte le news e i programmi definitivi della nostra giornata. È davvero una soddisfazione poter presentare questa iniziativa. Noi spesso quando ci riferiamo ai grandi temi della salute parliamo solo e soltanto di sanità. In questa occasione parliamo di sanità ma prendiamo la prospettiva della salute da un altro punto di vista che è quello della promozione degli stili di vita differenti e anche proprio della prevenzione. La manifestazione ha lo scopo di raccogliere fondi per il calcetto Valdano Fiorentino. Non solo miriamo alla prevenzione che è l'operazione da farsi in questo momento, un'educazione nostra interiore che ci convince che è necessario controllarci in anticipo, ma vogliamo anche stabilire un rapporto diverso, ce lo proponiamo almeno, fra le istituzioni demandate alla cura della salute dei cittadini e il cittadino stesso. Sabato poi c'è stata una bella sorpresa. La presenza di Leonardo Fiaschi, comico livornese molto conosciuto grazie alla sua partecipazione al programma TV Tale e Quale Show, che ha accettato molto volentieri di fare da testimone alla manifestazione. Stai tranquilla perché scenderò in piazza appunto così col braccio, aspetterò il primo dottore che mi fa l'analisi, quindi insomma scendete anche voi in piazza e venite, vi aspettiamo il 2 aprile, mi raccomando, un evento devo dire bellissimo e straordinario, sono felice di farne parte davvero.